Dottor Mauro Palma, il 31 marzo almeno formalmente si dirà addio per sempre agli ospedali psichiatrici giudiziari ma quello che un po' ancora è nel dubbio, avvolto un po' dalle nebbie, è il percorso perché le REMS sì è un indirizzo ma saranno poi attuate nella concretezza e nella praticità anche perché comunque gli internati non sono semplici internati. Il percorso però è molto più avanti se noi consideriamo che non è che andiamo a sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari con le REMS, andiamo a sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari con una presa in carico da parte dei servizi territoriali e dei soggetti, fa parte di questa presa in carico per i soggetti per i quali non è possibile prevedere un percorso all'esterno anche il ricovero nelle REMS. Quindi la questione va spostato al baricentro non da ospedali psichiatrici giudiziari a ospedali diffusi ma da ospedali psichiatrici giudiziari a nuova soggettività, nuove risorse e a direi anche una professionalità più adeguata di quello che si poteva offrire finora data dai servizi territoriali. E allora ci accorgiamo che il percorso può e deve essere praticabile perché non daremo nessuna revoca dopo il 31 marzo e provvisoriamente potranno esserci delle strutture intermedie in cui andare a rimettere le varie persone in attesa di alcune strutture definitive però insomma parliamo di numeri abbastanza ridotti che una nazione di 60 milioni di abitanti può certamente affrontare. Secondo lei non si corre il rischio del salto nel buio come è già accaduto con la chiusura dei manicomi? Dunque io innanzitutto non sono d'accordo che sia avvenuto un salto nel buio con la chiusura dei manicomi e in molti territori la questione ha funzionato e quella è una legge di grande civiltà che va difesa, che va tutelata e vanno stimolati i territori che non hanno attuato adeguate risorse e adeguate strutture a farlo. Detto questo credo che la collettività debba prendersi anche carico delle proprie difficoltà e delle proprie situazioni difficili da gestire certamente non è un prendersi carico un mettere una persona e collocarla ho visto che qui per esempio a Montelupo c'è una persona che sta lì dentro dal 1981 pensa che questo sia un prendersi carico da parte della società è un modo di non vedere i problemi Grazie